Siamo quasi. Ugo, devi essere forte. Ti devo dare una notizia terribile. No. Sì. Ho invitato qualcuno. O c'è? No. È ritornata Rebecca da Letalian. L'ha portato alla notizia. Che è successo? Tu, zio. È morto. No. No. Sì. No. Sì. Sì, è morta zio. Siamo ricchi. Sarà l'unica rete. Sarà l'unica rete. Via questa casa schifosa. La brucio. Chi se prega cambiamo la casa. Via questa cipolle in merda. Ti manterrò a bistecche per tutta la vita. E poi troveremo un bel marito per Marianne. Forse un cacciatore di notte. Sì. Comunque è morto lo zio Lazzaro. Sarà l'unica. È morto lo zio Lazzaro. Sì, è morta. Eccomi qua. Andiamo. Arrivo, eh. Ecco. Sì. Scendere. Vieni, Marianne. Dai, vieni, piccina. Piano. Questa è la mia famiglia. Sono l'erede, eh. Eccoci qua. Ho eredicato tutto. Sono l'erede universale. Andiamo. Eccomi qua. Lei è notare, no? Ha portato tutta la documentazione. Che c'è? Lazzaro. Alzati e cammini. Chi cammina? Chi cammina? Ma questo è diventato proprio... Ma che dice? Ma quello è proprio... E' zio. E' zio. E' zio. Notaro. Scusi, notaro. Non mi sembra tanto regolare. Qui ho fatto degli anticipi di spesa. Di spesa. Io. Ah! E' lo zio Lazzaro. Non dà la mano. Ti trovo benino, eh? Ugo, non te la prende. No. Ma chi se la prende? Ma chi se ne frega? Oddio a casa! Ma quale casa?